Oggi in sede Ambia a Roma è stato presentato il progetto FarmWise per l'agricoltura e la sostenibilità ambientale. Il progetto, guidato dall'Università di Lund e finanziato dalla Commissione Europea, intende tutelare le risorse rigue con strumenti quali intelligenza artificiale, biocarre e biosensore. In particolare biocarre è un materiale derivato dal carbone vegetale e ha proprietà assorbenti per agenti inquinanti. I biosensori si basano sulla bioluminescenza per rilevare la presenza dei contaminanti. Alla presentazione del progetto hanno partecipato esperti rappresentanti del governo a sancire l'importanza delle decisioni che si debbano prendere su un tema che in alcune zone d'Italia sta diventando addirittura drammatico. E noi come al solito siamo lì con le nostre interviste per rendere più chiaro tutto ciò che viene detto. Presidente, un programma importante che viene presentato oggi, il progetto FarmWise per l'agricoltura Rigo è la sostenibilità ambientale. Come ambi è da diverso tempo che diciamo che di fronte alla crisi climatica dobbiamo agire con tre soluzioni. La prima soluzione è quella di mettere in campo quella manutenzione ordinaria e straordinaria che ci permette maggiore sicurezza dei territori, un'infrastrutturazione che deve prevedere degli investimenti importanti per adeguare le opere a quelle che sono le condizioni che ci stanno ponendo nei cambiamenti climatici per la mancanza o la minor piovosità o la distribuzione diversa della piovosità durante il periodo dell'anno, poi la sfida dell'innovazione. Un'innovazione che deve dare delle risposte sia in termini di transizione ecologica ma anche di risposta per poter utilizzare delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che abbiamo. Allora proprio stamattina dimostriamo come, ad esempio, nella risposta dell'utilizzo delle acque reflue, che non è nient'altro che un provvedimento europeo ma che come Paese siamo in ritardo a recepirlo, può essere una soluzione per mettere in sicurezza questo utilizzo rispetto a quelli che sono gli inquinanti presenti nell'acqua e lo facciamo in modo naturale, lo facciamo in modo concreto dimostrando che anche su questo tema quando raccontavamo che avevamo la disponibilità nell'utilizzo delle acque ma nello stesso tempo dovevamo garantire la salubrità del cibo. Ecco, con questo percorso, con questa innovazione possiamo anche dare delle risposte appunto sull'utilizzo dell'acque reflue. Oggi si parla di qualche cosa di veramente interessante e penso anche di innovativo. Noi da sempre seguiamo ambi ma oggi finalmente si cerca di mettere in essere qualche cosa che dovrebbe cambiare il problema delle acque. Sì, oggi parliamo prevalentemente di qualità delle acque e andiamo attraverso questo progetto che parte oggi, andremo a valutare tre importanti innovazioni. Prima fra tutte l'utilizzo di biosensori, sono degli organismi che si illuminano quando ci sono dei contaminanti delle acque, quindi andare in qualche modo a testare questo metodo innovativo per valutare la qualità delle acque e quindi verificare se ci sono contaminanti. Attraverso poi un'altra ulteriore innovazione è quella del biochar. Biochar sostanzialmente è un prodotto che viene fuori dalla pirolisi dei sottoprodotti della potatura, quindi bruciando questi sottoprodotti si vengono a creare questi filtri che sono in grado anche in questo caso di abbassare l'inquinamento delle acque, quindi di ridurre l'inquinamento delle acque. Anche questo è un metodo innovativo e soprattutto è un metodo che utilizza sottoprodotti e quindi in qualche modo a tutela dell'ambiente. L'ultima innovazione che verrà lanciata da questo progetto sarà la creazione di una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale, la serie di informazioni e i satelliti per poter andare a valutare dopo, quando vengono fatte ad esempio le fertilizzazioni in agricoltura, quale può essere l'impatto sulle falde e quindi in qualche modo prevenire l'inquinamento. Beh è un progetto veramente che vuole dare un volto nuovo al futuro dell'agricoltura, delle acque? Sì, è un progetto molto innovativo, i partner sono 17, buona parte sono europei, poi oltre al CER c'è ovviamente l'Università di Bologna che sono quelli che hanno sperimentato proprio questi biosensori e quindi siamo fiduciosi che verranno fuori delle cose interessanti. Perché oramai il clima non è più, è qualche cosa che non riusciamo a prevedere e allora bisogna utilizzare tutto quello che si ha per poter sopravvivere al meglio. Sì, in effetti noi quello che stiamo riscontrando come Consorzi di Bonifica è che causa appunto proprio del cambiamento climatico, abbiamo da un lato un aumento di richiesta legato al fatto che la domanda diciamo aumenta per le ondate di calore perché le precipitazioni si concentrano in certi periodi, dall'altro lato purtroppo a causa dell'urbanizzazione sostanzialmente abbiamo una ridotta capacità anche del suolo di poter assorbire l'acqua e anche le falde si ricaricano meno e quindi diciamo che tutto il bilancio dei territori idrico dei territori si stanno modificando. Strettamente legato al problema della quantità cioè poi quello della qualità e quindi noi ad oggi con questo progetto agiremo prevalentemente sulla qualità delle acque. Sperando che i cittadini anche diano del proprio. Sì certo, tutti dobbiamo dare il nostro contributo utilizzando in maniera diciamo più efficiente l'acqua, non solo il settore agricolo, per l'agricoltura ovviamente l'acqua è fondamentale e si trasforma in cibo, quindi diciamo sicuramente va risparmiata e va usata in maniera efficiente però tutti dobbiamo fare la nostra parte. Presidente oggi viene qui in Ambi, viene presentato un progetto, un progetto che dovrebbe un po' cambiare le cose che riguardano l'acqua per il futuro. Sì sicuramente è un progetto che va nella direzione giusta e quella che noi ci ospichiamo da diverso tempo anche perché questo sistema di utilizzare l'acqua e refluo e le depurate per l'agricoltura è anche uno degli obiettivi che noi abbiamo inserito all'interno del decreto siccità. Questo va nella direzione dell'applicazione della ricerca tecnologica e quindi verso un'applicazione anche di un'agricoltura 4.0 nel rispetto dell'ambiente e nella tutela della salute dei cittadini. Questa è la strada giusta. Cosa si può fare per la Sicilia? Ma non è un problema solo di Sicilia perché se vi ricordate lo scorso anno eravamo a parti invertite. Avevamo forti piogge al sud e molta siccità al nord. Quindi è un problema da risolvere in maniera strutturale con un approccio serio come stiamo facendo. Abbiamo iniziato col decreto siccità e il decreto alluvioni più c'è il piano nazionale idrico. Utilizzando bene queste risorse dobbiamo non più considerare questi eventi come emergenze ma come governo del territorio. Direttore, sono toccati temi molto importanti. Alla fine lei ci ha riportato però a un dato drammatico del momento. Sì, quando in un paese si assiste che l'unica economia possibile, che è quella che deriva dai valori dei territori, dalla bellezza dei territori, dell'agroalimentare italiano, del turismo italiano viene messo in dubbio dalla mancanza d'acqua e si hanno soggetti, i consorzi di bonifica che delle risposte le hanno pronte, hanno dimostrato ad esempio il PNRR di saperle dare, di saperle mettere a disposizione dell'interesse generale. Oggi noi abbiamo voluto per l'ennesima volta dire anche nel campo dell'innovazione siamo pronti a fare la nostra parte e confermiamo la nostra disponibilità dal punto di vista di quella realizzazione degli invasi che non può arretrare, pena l'arretramento della qualità della vita degli italiani. Ma degli invasi voi ne parlate da tanto tempo. Gli invasi ne parliamo da tanto tempo e anche con la consapevolezza del fare. Un miliardo di metri cubi di acqua i consorzi certificheranno alle istituzioni del paese di aver risparmiato entro giugno 2025 grazie al PNRR. Questi sono fatti concreti, quell'acqua la togliamo alle perdite e la mettiamo a disposizione della bellezza dei territori, dei cittadini, della produzione di energie elettriche, dell'agricoltura in rigua, del made in Italy agroalimentare italiano.